A premiare Lorenzo Soria, Presidente dell'Aleofone Press, Nolan Funk! Lorenzo, grazie, perché avere un premio da voi è veramente un privilegio. Non ero pronto, grazie a te e grazie a tutti voi, sono orgoglioso. Prima di essere stato nominato Presidente dei Golden Globes e poi di essere qua, e il mio lavoro inizia tra una decina di giorni. Ciao! Nolan si fa fare del discorso. Nolan si fa fare del discorso in tuo onore, per te. Io e il nostro prossimo ospite abbiamo molto in comune. Entrambi abbiamo il cinema in Italia e la bellissima Sicilia. E' un grande onore consigliare questo premio al Presidente della Firmware Association. Fate un grande applauso a Lorenzo Soria. E a lui. Bravo, bravo, Nolan Funk! Grazie, Nala, che ti ha preparato questo speech. Il Terminal di Amore al Presidente dell'Aleofone Press, Lorenzo Soria. Grazie, Lorenzo. Grazie, Tiziana. Grazie.